La carozza di testa del treno I loro lamenti sono la marcia funebre dei morti che saliranno a 77 I due treni portavano complessivamente 2200 passeggeri Si tratta di una delle linee più affollate della città Le corse delle 6 di sera svuotano gran parte degli uffici Sacerdoti danno la soluzione mentre la squadra medica della difesa civile giunge con le autoambulanze Un semaforo aveva fermato il primo convoglio Al via libera esso si rifiutò di partire Probabilmente i freni si erano inceppati Il secondo avanzava a 90 l'ora A 300 metri il macchinista cercò di bloccare e diede la contromarcia In vano Un fragore come d'esplosione e poi un improvviso silenzio Per cui cominciarono a salire i gemiti dei feriti